Metodi di studio messi a confronto. Dovresti utilizzare un metodo semplice o uno complesso? Qual è il migliore? Oggi ti faccio capire attraverso una dimostrazione quali sono i punti di forza di un metodo più semplice, portato davvero all'osso, e quali sono anche i punti di forza di un metodo più complesso e più articolato. Ovviamente in ciascuno di questi troveremo anche dei punti deboli, dei contro, e scopriremo insieme anche quali sono questi ultimi. Prima di iniziare però ti ricordo che puoi richiedere il corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari attraverso il link che trovi in descrizione, ti basta inserire il nome e la mail in cui vuoi ricevere tutte le varie lezioni. Troverai contenuti scaricabili, dimostrazioni pratiche, spiegazioni teoriche, istruzioni e molto altro. Per quello che riguarda invece il video di oggi, vediamo la sigla e poi iniziamo a vedere il confronto tra questi due metodi di studio. Vediamo quindi insieme questi metodi di studio a confronto, prendendo un metodo semplice, che è il metodo REQUEST, e un metodo complesso, il metodo MURDER, M-U-R-D-R, è un acronimo. Ora, ti faccio capire quali sono le fasi che compongono ciascuno di questi metodi, e poi vediamo i pro e i contro e appunto questo confronto tra i due. Partiamo con il primo metodo, REQUEST si divide in due fasi, RE sta per READ, quindi è una fase di attenta lettura delle informazioni che dobbiamo studiare, e una fase di QUEST, cioè QUESTIONS, cioè la formulazione delle domande a partire da ciò che abbiamo letto, e quindi anche la formulazione delle risposte proprio in funzione delle informazioni che iniziamo ad apprendere. Ripetiamo questo meccanismo più e più volte su tutto il materiale. Metodo molto molto semplice. Partiamo poi con il secondo metodo, il metodo MURDER, e vediamo in cosa consiste. Essendo un acronimo, ciascuna lettera corrisponde a una fase, e quindi partiamo dalla prima. La M sta per MOOD, e corrisponde all'emotività verso lo studio. Lo dico in modo ancora più semplice, per esempio la voglia di studiare. Se segui il mio canale sai che non possiamo aspettare di avere voglia di studiare, dobbiamo avere degli obiettivi raggiungibili, facili da gestire, e dobbiamo impegnarci per riuscire ad ottenerli e a raggiungerli. La seconda fase è la U sta per UNDERSTAND. Dobbiamo leggere, e questo è un po' quello che corrisponde con la fase RE del metodo REQUEST, e questa lettura deve essere finalizzata non alla memorizzazione delle informazioni, che arriverà dopo, ma alla comprensione di quest'ultime. La terza fase, la R, la prima delle due R, quindi, sta per RECALL. Quindi dobbiamo provare a ripetere e ricordare le informazioni senza sbirciare. Sarà normalissimo in questa fase non ricordare tutto ciò che ci serve, è normale. Quarta fase, D, sta per DETECT. Devi andare a controllare e verificare se hai commesso degli errori o ci sono delle omissioni. Sostanzialmente se stai dimenticando delle informazioni e segnale in un foglietto, così dopo controllerai se sei riuscito o riuscita a memorizzarle. La fase di E, di ELABORATE, vai a ripetere nuovamente puntando alla memorizzazione delle informazioni in funzione delle fasi precedenti, anche la quarta fase. E poi l'ultima, la sesta fase, è una fase di ripasso generale per capire tutto quello che hai fatto e se ci sono ancora cose da aggiustare, se non tutte le informazioni sono state apprese come si deve. Come vedi questo è un metodo nettamente più complesso e articolato, ma andiamo una alla volta a capire quali sono gli elementi che ci permettono di fare un confronto fra questi due metodi di studio. E iniziamo andando ad approfondire il primo aspetto, cioè il numero di fasi. Il fatto che abbiamo due contro sei fasi comporta minor tempo per il metodo REQUEST, ma al tempo stesso molta più precisione per il metodo MURDER, in modo tale, in un certo senso, di poter, con il secondo metodo, gestire anche informazioni molto più complesse, informazioni che, se fossero state studiate solo con il metodo REQUEST, sarebbero state troppo difficili da apprendere e comprendere. Il secondo elemento fa riferimento agli step preliminari, che nel caso del metodo MURDER, quindi del metodo più complesso, sono maggiori. Infatti qui, per esempio, partiamo direttamente dal capire il nostro stato emotivo, che talvolta ci blocca nello studio. Nel metodo REQUEST tutta questa dimensione non viene completamente considerata. E aggiungo, oltre a step preliminari, anche step conclusivi di riepilogo, come appunto l'ultima fase del metodo MURDER, che non è completamente considerata nel metodo REQUEST, essendo appunto più semplice. Un altro elemento sono appunto le fasi di verifica, è esattamente quello di cui ti parlavo adesso. Andare a controllare se hai detto tutto ciò che avresti dovuto dire, o comunque, se ci sono ancora delle omissioni e dei problemi, devi avere l'opportunità, prima dell'esame, di risolverle. E quindi andare a capire esattamente come riuscire a comprendere tutto ciò che ti serve ed eventualmente aggiustare eventuali punti deboli. E come ultimo aspetto, la stimolazione della memoria. In un certo senso il metodo REQUEST attraverso le domande ci permette di vedere in modo critico le informazioni, ma non ci dà uno strumento chiaro per memorizzarle, solo per riuscire a comprenderle in modo più approfondito. Nel metodo MURDER, essendo anche un po' più complesso, abbiamo la terza fase, la fase di recall, che è un po' quello che facciamo quando utilizziamo in modo isolato la tecnica dell'active recall. Lo sforzo di cercare di ricordare senza guardare e sbirciare nel libro è uno dei metodi più faticosi ma anche più efficaci nella memorizzazione delle informazioni. E questo poi viene anche consolidato grazie alla quinta fase, la fase di elaborate. E quindi in generale io ti consiglio di applicare il metodo REQUEST se le informazioni sono molto semplici o non hai bisogno di approfondire in modo particolare questi ultimi appunto i concetti e gli argomenti. Se invece devi studiare come si deve e vuoi ottenere davvero dei risultati, ti invito a provare almeno una volta il metodo MURDER. In ogni caso, se vuoi invece una spiegazione più pratica di come devi studiare per un esame universitario, ti rinnovo l'invito a richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Come ti ho detto all'inizio, trovi il link in descrizione. In ogni caso, se hai altri dubbi, domande, lo sai, puoi contattarmi come preferisci e non farti nessun problema. Io invece ne approfitto per ringraziarti del tuo tempo e della tua attenzione e quindi ti aspetto con molto piacere nel video che uscirà domani.